Finalmente è arrivato il primo smartphone pieghevole dopo anni che le aziende ci promettevano ma si dai fra un mese uscirà il primo smartphone pieghevole al mondo e finalmente è qui dopo anni. Ciao ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Io sono Rickman e oggi parleremo del primo smartphone pieghevole prodotto da chi se non Samsung. Dopo la sigla non so cosa dire. No perché il problema è che se io dico dopo la sigla buona visione sembra che dico sempre quello quindi dovrei inventare nuove frasi ma adesso non mi vengono. Vabbè dai per oggi ci sta dopo la sigla buona visione. Il 7 novembre ovviamente 2018 penso che non serva neanche dirlo a San Francisco la Samsung ha fatto un evento dove ha mostrato appunto questo smartphone pieghevole che è il primo al mondo, il primo ad essere veramente stato fatto vedere. Fate conto che è una sorta di mezzavia fra smartphone e tablet. Praticamente ha una chiusura a libro. Quando viene chiuso è grande più o meno come uno smartphone. Dopo vedremo anche i pollici e i pixel. E appunto è lo schermo esterno. Quando lo apriamo ha uno schermo interno che è paragonabile a un tablet un po' più piccolo. Questo nuovo schermo si chiama Infinity Flex Display e durante la presentazione Samsung lo ha diciamo così nascosto dentro una sorta di involucro abbastanza grande dicendo di volerlo proteggere appunto. E durante questo evento quando hanno fatto vedere questo smartphone dallo schermo pieghevole hanno abbassato un po' le luci in modo da non farlo vedere più di tanto quindi non si sa tanto come si è fatto però se volete vederlo io vi lascio questa sorta di video di 2-3 secondi che praticamente è una GIF dove lo potete appunto vedere. Ovviamente come sistema operativo utilizza Android che proprio poco tempo fa ha annunciato di aver aggiunto delle opzioni diciamo così delle implementazioni per poter offrire il supporto a questi nuovi schermi, a questi nuovi display meglio. Durante questa presentazione appunto hanno detto i pollici che ora io leggerò che sono di 840x1960 ovviamente per lo schermo dello smartphone che è di 4,5 pollici e quello più grande interno, quello da aperto per così intenderci il tablet da 1536x2152 ed è grande 7,3 pollici quindi praticamente un fablet sappiamo anche che potrà gestire più applicazioni contemporaneamente su entrambi gli schermi anche se per appunto avere questa future bisogna che gli sviluppatori l'aggiungano sicuramente Samsung ha i mezzi per convincere i sviluppatori però appunto essendo che dipende da loro ci saranno sicuramente applicazioni che non lo supporteranno e applicazioni che lo supporteranno benissimo. Lo stato di sviluppo di questo Infinity Flex Display sembra essere arrivato praticamente al termine e quindi sarà prossimo alla produzione di massa non si sa precisamente la data Samsung ha detto di volerlo produrlo appunto di massa per il prossimo anno ma non ha dato date precise quindi non si sa che cazzo vuoi quindi come vi sembra questo smartphone? Allora se devo dire la mia sicuramente è una tecnologia innovativa non c'è dubbio, questa cosa è fuori dubbio sicuramente sarà destinata a cambiare il modo in cui vedremo gli smartphone e sarà destinata anche a cambiare il mondo degli smartphone e appunto diciamo che probabilmente uscirà chissà quanti soldi però quando scenderà di prezzo forse il pensierino per comprarlo ci sarà. Per questo video io ho finito scrivetemi nei commenti come vi sembra questa tecnologia se vi piace, se vi fa schifo, se lo acquistereste se è quello che volete lasciate like che fa sempre piacere iscrivetevi che mi fate contento e noi ci troviamo in un prossimo video ciao belli ciao 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 ciao